L'Egambiente nazionale ha rilevato da una ricerca scientifica che quasi il 50% delle nostre spiagge è soggetto a erosione. A questo proposito Legambiente Agropoli ha inviato una lettera al sindaco Adamo Coppola e all'assessore all'ambiente Rosa Lampasona per proporre delle soluzioni nei confronti delle spiagge di Trentova e della marina agropolese. L'area più a rischio è quella di Trentova, si legge nella lettera, dove già adesso la spiaggia è quasi scomparsa. L'unica soluzione praticabile, non invasiva, è quella di arretrare gli attuali stabilimenti balneari e ricostruirli in materiale non impattante alle spalle, in corrispondenza dell'attuale strada asfaltata prospicente la spiaggia, in modo di avere la possibilità di aumentare l'area per il posizionamento degli ombrelloni e delle sedie a sdraio. Invece per la spiaggia del porto è opportuno mantenere in loco la posidonia oceanica spiaggiata, chiamata banquette, provvedendo solo alla rimozione dei rifiuti, al livellamento della banquette con un rastrello e all'installazione di passerelle per l'accesso al mare. Tutti gli anni la posidonia oceanica viene rimossa dalla spiaggia e accumulata sotto la rupe perché è considerata nociva, anche a causa dei possibili fenomeni di degrado. Invece nelle linee guida dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, risulta chiaro che in relazione agli aspetti igienico-sanitari non risultano criticità causate dalla biomassa spiaggiata nei confronti dell'uomo. La riqualificazione della spiaggia del porto va completata con la pulizia di tutto l'arenile e l'installazione di docce e bagni al servizio dei bagnanti, in uno dei locali sottostanti la via Riviera Franco Antonicelli, attualmente ricettacolo di rifiuti.